Eccoci qua ragazzi, sono sempre io il Mago Deda. Vi ricordate quel video che avevo fatto tanto tempo fa da Gabriele per sua figlia Martina e mi ha scritto a sua figlia e mi ha detto ma scusa ma quei 5 ero famosi dove è che puoi spedirmeli? Ho detto vabbè allora li ho cercati un po' e poi si erano spariti e ho dovuto usare 5 dei miei e adesso ho scoperto che questo oggetto magico puoi mandare come dei fax con i soldi basta collegarlo a un telefono dove si vuole scrive a chi lo devi spedire ok metti la banca nota dentro in questo modo bene e giri e lui parte dal telefono esce fuori già il biglietto di ringraziamento al Mago Deda naturalmente ti voglio un mondo di bene papà tua figlia Martina grazie di 5 euro ma come c'è? Gabriele adesso mi devi ben 10 euro mi raccomando questo è una magia da tua figlia per te che ti vuole un mondo di bene e comunque ricordati che mi devi 10 euro it's a magic grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti